Un saluto dalla redazione del Tg della mobilità. Oltre 160.000 multe da gennaio a oggi è il numero di sanzioni che la polizia locale in questi tre mesi ha effettuato con i nuovi sistemi elettronici a carico dei veicoli in sosta selvaggia, veicoli parcheggiati senza regole, sosta irregolare ma anche sicurezza stradale tra le priorità della polizia locale che nell'ultimo mese a fronte di 300.000 controlli ha sorpreso 11.000 persone che guidavano ben oltre i limiti di velocità consentiti. Le altre notizie il 2 aprile, domenica delle palme ma oltre alle celebrazioni per l'avvio dei riti della Pasqua Cattolica sono in programma alcuni eventi sportivi con ricadute su viabilità e trasporto pubblico. Dalle 9.30 alle 11.30 la gara di 10 km Run for Autism con partenza e arrivo in Piazza Bocca della Verità richiederà la chiusura delle strade già dalle 7 e la deviazione di 17 linee bus. Dalle 9.00 alle 12.00 altra manifestazione podistica vive in città con partenza e arrivo in via dell'Acqua Marcia. In questo caso sono previste modifiche per le linee 211 e 351. In chiusura tre segnalazioni di trasporto pubblico a Ostia la linea 018 è stata ripristinata su via Pernier percorsi di nuovo regolari, poi per la 053 in via Bitonto e per la 558 dopo la fine dei lavori tra Viale San Giovanni Bosco e via Calpurnio Fiamma. Per il momento è tutto, un saluto dal Tg della Mobilità. Per il momento è tutto, un saluto dal Tg della Mobilità.